un alcolizzato, un ass morto di cirosepatica allora, il nonno ha detto che la vigilia di Natale facevano il presepe con il cartone l'italiano, a Gonars, 80 anni fa 80 anni fa, e andavano per le case, continuo nonno a cantare, a bussare, a cantare la canzone quindi tu cantavi per le case sperando che ci dessero dei soldini, dei crocenti, da mangiare molti non aprivano certo, per non dare niente e cosa cantavano? tu quanti anni avevi? eh, dieci quindi le vacanze dal seminario ma non era il seminario non era ancora il seminario e cosa cantavi? la canzone non me la ricordo tutta eh, ma quella che ti ricordi camminando giorno e notte fresca e bella la stagione per i boschi e per le grotte senza alcuna remissione viaggi nel tempo San Giuseppe dice l'amata sposa ora è tempo di riposar che la notte si fa più fredda e non sappiamo dove andare 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 inventata 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 l'avete inventata voi la canzone? no, mia madre ce l'ha insegnata adesso le parole precise non le ricordo tutte ah, tua madre si era perché andassi in giro la canzone ho po' di soldi vuoi cantare? non l'ho imparata in un secondo zio